5,3 volt da cosa? un pacchettino di rame e ferro le stelle tagliate anche di merda in mezzo del cartone imbevuto di aceto bella gente, praticamente ti capita che sei là con il tuo bel telefonino, con il schermo rotto per tutti hanno uno schermo rotto e dici, oh porcaccia la miseriaccia 12% di batteria ma però tu hai il tuo carica batteria personale carica batteria personale, no? la butti da per terra, questo corca miseria il cavo è un po' più in qua il cavo, ecco lo prendiamo mettiamo questo qua dentro, no? dentro nel cazzetto quest'altro filo che non c'è trucco, non ci inganno lo mettiamo qua dentro e lui? va in carica con questa batteria fatta di nulla 15% ma guarda, aveva bisogno di corrente fatta dal niente plastica, cartone, aceto, ferro, rame buona vita